Il caldo non dà tregua. Se le previsioni ci avevano fatto sperare su un calo che già da oggi avrebbe interessato l'intera penisola portando un po' di rifrigerio, le temperature da bollino rosso di oggi in 17 città italiane non fanno ben sperare. Tra le più colpite da Lucifero, Bari, Bologna, Firenze, Latina, Napoli, Roma e Viterbo. Tuttavia i meteorologi insistono. Mercoledì e giovedì vedrà un miglioramento delle condizioni per l'arrivo di aria più fresca da nord che porterà qualche temporale ma soprattutto un abbassamento delle temperature. Dopo una breve quanto mai sospirata tregua, da domenica il termometro tornerà ad alzarsi regalandoci un ferragosto con temperature di nuovo sopra la media del periodo. Gran parte del nostro paese tornerà nuovamente a vivere una fase di caldo importante con temperature elevate e il rialzo termico dovrebbe coinvolgere appunto la settimana di ferragosto per portarci anche al weekend successivo, quello del 20, in cui praticamente su tutte le regioni ci sarà un aumento delle temperature, torneremo sopra i 35 gradi avvicinandoci anche ai 40 gradi con bel tempo diffuso e molto molto caldo.